I carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato oltre 20 tonnellate di prodotti alimentari scaduti, che in grandissima parte venivano rietichettati o riconfezionati per allungare nel tempo la loro validità al consumo. Il riciclo alimentare illegale, secondo l'accusa, era gestito da una coppia cinquantenne, già in passato al centro di analoge indagini e che è stata denunciata in stato di libertà. Secondo gli investigatori, avrebbe consegnato un sistema di vendita sotto banco di migliaia di confezioni contraffatte. I militari dei NAS in un deposito hanno scoperto decine di migliaia di prodotti confezionati scaduti, che ancora riportavano la vecchia etichetta. Si tratta di snack alimentari, succhi di frutta e bibite. Alimenti ricostruiscono i carabinieri facilmente smerciabili, soprattutto con la vendita da parte degli ambulanti. In un locale attiguo, invece, sono stati rinvenuti i macchinari e le attrezzature utilizzati per la contraffazione delle confezioni scadute, compresi un sigillatore automatico, una etichettatrice professionale, diverse bobine di etichette, inchiostri, sverniciatori e circa un migliaio di confezioni appena contraffatte e con etichette che avevano una nuova data di scadenza, pronte così per essere rimesse in vendita attraverso i normali canali commerciali. L'indagine dei carabinieri del NAS è scaturita da operazioni di sequestro di prodotti dolciari scaduti, condotte durante le feste di Pasqua del 2021 nel centro città e in un deposito alimentare dell'Interland Etneo. Il blitz ha interessato diversi siti dislocati nell'area nord di Catania.